I beni di questo mondo non sono proporzionati al cuore umano, ma io voglio pur dire che questi beni siano veri, non sono però adeguati al nostro cuore, quindi è che mai potranno saziarlo. Il diletto infatti è il gaudio in cui riposa, lo spirito messo in moto dai suoi desideri, nasce dall'applicare le potenze agli oggetti loro convenienti, ma oggetto di un cuore nei suoi desideri quasi infinito non può essere che un bene infinito. Come vorremmo dunque che beni si piccoli, si limitati lo appaghino? Se il nostro cuore è così vasto, quasi un altro mare, come potranno scarsi ruscelli empiere l'immensità delle sue brame? Ah, in cielo, in cielo, troveremo un oggetto conveniente al nostro cuore, un Dio bene infinito. Ah, mio Dio, allora sarò saziato quando apparirà la vostra gloria, sì, voi solo potete col torrente dei vostri diletti dissetare le mie brame, e per questo mi avete dato un cuore insaziabile, affinché io intenda che per voi solo è fatto il mio cuore, e che sarà sempre inquieto finché in voi non riposi. Cuore umano, conosci la tua follia, per godere un sogno, perdi un'eterna beatitudine, tu corri dietro all'ombra, alla vanità, e lasci la bontà vera, l'increata bellezza, perdi quel Dio che è ogni cosa.